Sono stati presentati oggi a Bari, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la direzione regionale INAIL Puglia, i nuovi progetti di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che riguardano i settori dell'edilizia e dell'agricoltura. L'evento si è svolto nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2023, per focalizzare l'attenzione sull'importanza e la necessità di un impegno collettivo nell'elaborazione di una nuova cultura della sicurezza condivisa. Noi riteniamo che il tema della prevenzione sia centrale per una crescita culturale del nostro Paese. Il fenomeno infortunistico si può sicuramente aggredire dal punto di vista tecnico, dal punto di vista normativo, ma l'esigenza culturale è secondo me più viva, perché significa anche incidere sulle nuove generazioni, definire un percorso virtuoso che implichi la valutazione della pericolosità anche di alcuni ambienti lavorativi, della maggior parte degli ambienti lavorativi. E non si può ovviamente attraverso un sistema sanzionatorio o un sistema tecnico definire il miglior approccio al mondo del lavoro. C'è bisogno di una consapevolezza, la consapevolezza passa attraverso la cultura. Grazie.